Ragazzi per questa sfida 20.000 mi piace Comunque amici noi siamo i due Bomber Freestyle Bomberissimi, rieccoci qua al campo dei due Bomber per una nuova challenge Vedete quel quadratino da indietro? Cogliti! Il tuo schiaffo è stato dato? Ragazzi questo oggi muretto challenge E' già una sfida che si facevano noi quando eravamo ragazzini Non so se si fa ancora ragazzi Non lo so scrivete qua sotto se eventualmente si fa ancora Perché l'ultimo Gli altri morivano Il primo Zlatan 20.000 like Bomberissimi Come il piccolo regolamento iniziale Ovvero un giocatore andrà a calciare la palla Verso il muro dovrà veramente entrare dentro alla porta che c'è sul muro E poi successivamente l'altro giocatore dovrà di prima tirare per beccare sempre il muretto Vediamo quale sarà il primo Bomber che sbaglierà questo muretto E vediamo il giro Allora conta Chi parte? Alle 3, alle 3, alle 20 3 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16 Primo, secondo, terzo, quarto, quinto Via Che è il turno ragazzi? Chi sbaglia perde il punto Badonni No, sono semplicissima Badonni che bellissima Guarda che fai bene No, no Facilissimo La schivata è sbaglia La schivata è sbaglia Che palo? La schivata è sbaglia La schivata è sbaglia La schivata è sbaglia La mette, la mette, la mette Uffi Ehi Che fai? Ehi Ehi Chi era me? Vai Giro Ah Ah Ehi 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 Vabbè Vabbè Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì Occhio eh Aia Sono a 6 Sono a 6 Sono a 6 E via Se mi parte Attenzione La gacchia è rimutiva Oh 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 Vabbè Oh Beffe giudico Col destro ragazzi Buona Fuori 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 Dai Questo è un meme Oh 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 Ganjo Aaaaa Ha E' arrivare in cotta, una pentata, passato! La qualità, Manu! Sì, Gabri! Non puoi, non puoi, ehi, ehi, ehi! Me l'ho toccata io! Me l'ho toccata, però basta! No, che! Vai, vai! C'è male di qui, che! C'è male di qui, che! Che, che, che! No! Gliatemi che i figli, dai! Eeeeee! Dai, Gabri! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Eeeeee! 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 Poi, Poi, Poi! Eeeeee! Poi, oh, oh, oh! Dai, eh! Sì, è vero! 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 Ha vinto! Italia è una repubblica democratica portata sul lavoro! Il potere è un popolo, quindi! Davide perde il punto. No! No! No, ho sempre giocato di... Ragazzi, formattiamo la memory card, togliamo il punto a Gabri. Quanto sei? Godo, la, repubblica! E' il Dottie! E' il Dottie! E' il Dottie! Dottie! Bravissimo! Beleee! Sali! Dottie! 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 Vi cattivi! E' il Dottie! Fuori! Ma smettila! Ma smettila! Ho preso qua! Aia! Questa è buona! Maradona! Buffone! No! Nooooooooo! Nooooooo! Buono! A clampare! Buono! Buono! No, no, è vero che si, sei vergogno, tu sei Tocca, ah, hai chiuso da casa Cosa è? Ah vabbè, ho capito Sì, è da fuori Sì Eh, ho venuto in me, da Ah, ah, ah 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 Ma è mica, sei vergognoso Attenzione Eh sì, eh sì perché i deputti pregono la fuga Fuori, 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 fuori 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 Manu Fuori Ricazio Bane, basta Vai lento C'è giro, c'è giro Oh Oh Donny Eh che buono Eh vabbè, un po' di mordente Sì Eccolo, eccolo, il mordente Vai Attenzione Occhio No, fuori Muori Donny Attenzione, attenzione, delizio Ciao Donny Buono 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 Ragazzi è giunto il momento della cementata Andiamo a vedere Uno Uno Angoletta, attenzione Donny Buono Buono Un punto Un punto Un punto Un punto Attenzione, un punto Donny Buono Fuori 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 Sopo Eeeeee Sopo Sopo Vai Donny E di nuovo Eeeeh Vai Donny Buono Buono Fuori Fuori Maledetto Aaaaaaah Due Uno Fuori 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 Buono Buono Che culo Che culo Oh di contropalto E' bene, non è colpa mia Non è colpa mia E' bene, non è colpa mia E' bene E' bene E' bene E' bene E' bene E' a palo E' a palo E' a palo E' a palo Non potete rubarmela così, è la palo Attenzione Manu Ehi Attenzione, palo, palo, palo No, bravo Va fuori No Buono No La piazzata No Fuori Zapp è uno, se ne sbagli è fuori Manu Manu Quattro Gabri Gabri riattiva subito Zapp uno, uno Oh C'è il cemento Attenzione Oh, la mette subito, la mette subito Zapp si perde su sinistro La gira Fuori Raga, sincero Mi aspettavo che questa sfida fosse la mia, invece era E' come il solito La piazza Manu La bomba E' via Questa è difficile ragazzi E' la palla, la va bene Buona Peccato Sta già questo La piazza bene, la piazza bella Potrebbe recuperare, recupera Recupera Sei Buona, buona, buona No Oh Da vicino Potrebbe essere forte Buona, buona Bello Manu Manu Di manciolo La punta dentro ragazzi Subito Subito che buona Yeah No Bella Sulla fascia No No Attenzione Evitare in mano che la mette all'alto L'alto, l'alto Cadri Cadri A rischio A rischio A rischio A rischio Se la stai giocando 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 Oh Forse fuori Oh Tutti su Manu A rischio Ho una fattua In quest'ultima Manu A rischio Prendolo Non vale Prendi Non vale Prendi Prendi Vai Tieni qua Ragazzi per questa sfida 20.000 mi piace Facciamo i complimenti a Manu Per aver vinto la prima Alla prossima La prossima sarà veramente molto carica Magari un qualche personaggio Infatti Ale è special guest Dobbiamo raggiungere anche per avere Ale in campo Attenzione ai Bombers Quindi qua sotto Link per iscrivervi al nostro canale E l'altra e l'estro Altri due video Bombers Io non voglio trovarmi Nel prossimo mi vincerà Con Manu che farà sentire Tutto quello che ha preso oggi